bentornati su recensioni per scegliere oggi vediamo come resettare il nostro google home mini andiamo a vedere quindi come è possibile andare a resettare completamente un google home e poi in un altro video andremo a vedere invece come andarlo a configurare se abbiamo la necessità di resettare il nostro google home mini il procedimento è molto molto semplice come possiamo vedere sul retro nella parte bassa è presente un piccolo pallino non so se si riesce a vedere con la luce comunque in prossimità dell'attacco del cavo è presente un piccolo pallino per andare a resettare il nostro google home ci basterà tenerlo premuto per qualche secondo come vediamo si illumina effettuare un ripristino completo del tuo dispositivo google home per annullare l'operazione rilascia il pulsante come vediamo le lucine si illumino in colore arancione e il messaggio ci avvisa che il reset è in corso quindi una volta che abbiamo terminato il reset quindi ci viene dato il suono di avviso vediamo che la cassa google home si riavvia andrà a riaccendersi e ci comunicherà che il progetto di reset è completato la cassa si è riavviata ci mostra le luci con i vari led colorati google home per iniziare scarica l'app google home su un telefono o tablet quindi come vediamo ci ha comunicato che il reset è avvenuto correttamente ci richiede di scaricare l'applicazione per andare a effettuare la configurazione come vedete quindi fare il reset del dispositivo è molto semplice si può fare direttamente dal retro del nostro google home mini tenendo premuto il tasto posto nella parte sottostante in un altro video invece andiamo a vedere come fare la configurazione passo passo per questo video tutorial su google home mini è tutto se avete delle domande sulla rimozione di un dispositivo google home dal vostro sistema potete lasciarle qua sotto con un commento mettete un mi piace sotto a questo video iscrivetevi al canale cliccando sulla campanella per ricevere notifica tutti i prossimi video che andremo a pubblicare per questo video sulla rimozione del google home è tutto noi ci vediamo alla prossima video recensione per scegliere ciao da enrico